La partenza è buona, è bella sta finale, è molto bella sta finale, con Andrea Iuliani che riesce ad andare avanti, poi Pietro Borsani sono stati tra i protagonisti anche delle partenze a Londra, Iuliani, poi c'è Borsani in seconda posizione, poi Federico Borsani ha un certo vantaggio, Iuliani si allunga molto, Andrea, Andrea, Iuliani, ancora lui